50.000 mi piace e scrivi nei commenti che tipo di amico sei Lo youtuber Mirko, ho finito, vieni va Oh Tati, che c'è? Hai visto qua la meno apprezzatura di Mirko? Si qua ha 5k Questa qua ha fatto da voler me le calze Mi piace? Grazie, grazie Oh Tati, il lavoro come va? Ah, tutto bene, i numeri stanno salendo Quanti iscritti sei adesso? Oggi? 99 Ieri ero 100 però Eh, uno è andato via Però secondo me torna, sono fiducioso Il permaloso Oh tanto, guarda Il commento del video di ieri del campo di Henry Ma da piccolo facevi il portiere, ma è vero? Si Ma quello facevi il portiere? Giocavi pochissimo però Ma tipo calcio a 5, c'è la porticina quella piccola Dai, no Vabbè, a 11 Altezza, mezza bellezza, dai Ho capito, ma a 11, tanto Il compagno gli si è arrivato a dire Ma per quello Oh, ma cosa stai facendo? Sto cercando di modificare questa foto Su, no, una mano Una mano Chieda Tati Chieda Tati, cioè non te la prendere eh Però no, chieda Tati Grazie, grazie Tati! Oh, vabbè Ma che scarpi ti stai mettendo Henry? Cosa fai? Io c'hai i calzini con Patrick la stella Capito, però Sono buonguardante Queste scarpi, devo dire I tuoi calzini, va? Com'è? Che l'ha fatta? Madonna mia Che putzza No, no, giuro Dai Ti ho detto, non ce l'ho stata Io ne ho, io ne ho Che puzza Henry? Mamma mia, che puzza Vai giù Dai Henry, ma che ha mangiato? Castagna Che è? Te lo giuro Ma dai Ma che c'è? Mamma mia Castagna No, no, no Che mangiato, Gerry Ma John, il castagna Ovviamente Il ritardatario Ma io Questo è fino a fatto Pronto Andrò, ma è il fine I fatti Eh, Mimì, mi sto mettendo le scarpi Sta scendendo i 5 minuti Cosa Vabbè, sto qua, sto aspettando Sì, dai Fa quanto tempo questo, amico? Ma ne vado proprio Lo scroccone C'è Andi? Oh, c'è Ando Tatino Grande Tati Che c'è? Mi fa un piacere, dai Solo tu me lo puoi fare Hai di Per una 50 euro Oh, 50 euro? Ehi, la devo scelma di piano Vabbè, solo per quello Sennò Lo sai che è trevito, no? Sì, sì Ah, 50 euro Grazie, Tati Di buco Ciao Ah, bello Ti è al posto? Ti è al posto Bene, dai, ottimo Senti, dove mi metto questo? Ti lo puoi lì Comunque fai come se fosse Gli ghiacata tua Ok, grazie Beh, allora faccio come se fosse In casa mia Oh, come dimmi Hai una cosa da mangiare Grazie È gentilissimo Ti ho visto da lontano, Harry Dove stai andando? Eh, in piazza In piazza? Abito lì vicino Dai, fammi passare Grazie, Harry Sei un amico Buonimì, stai a posto? Eh, stai a posto a godere Come stai? Va bene Senti, stasera ci sei, no? Sì, sì Ok, perché andiamo a fare serata Non so se te l'hanno detto No, non me l'hanno detto Però c'è una cosa importante Questo sicuramente te l'hanno detto Certo Che l'ultimo che viene invitato Deve pagare a tutti Ok, ciao ciao Il migliore amico Andrea Oh, madre Ti chiedevo un favore Dimmi Un consiglio più che altro C'è sta ragazza che mi piace Si chiama Giulia E però Non so come Cioè, come provarci Come dirgli Insomma, ecco Tu che hai più esperienza Io ho più esperienza Sì, hai 28 anni Omar Beh, però tu sei bilanzato Eh, lo so Omar Devi presentarti Se ti ci trovi Vedrai che Ricambierà Forse, non lo so Però ci devi provare Giustamente Tu decidi rischiare Eh, per forza Omar Ma tu Basta che sei te stesso Le ragazze Vedrai che Cadranno i tuoi piedi Tu sei bello, frate Ok, Andrea Ragazzi Omar, questo autobus Non passa mai Mai Ma mi chiamo Omar Omar Sono alla fermata dell'autobus Ma non passo Mi potresti accompagnare Tu Dai uno strappo Dai, per favore Ok, dai, arrivo Dai, sai, Andre Andrè Andrè Andrè, ma ti sembra questo L'orario di qualcosa Eh, no Che dovevo Abbiamo fatto tardi Io ti metto in punizione Per un mese No, ma, Edda Per favore Senza scuse Ho dimenticato io delle cose Quindi abbiamo dovuto fare dei giri in più E... Ah, vabbè Il doppio giochista Tati, comunque ti posso compensare una cosa Edri Sinceramente Mi sta un po' antipatico Sai perché? Cioè Secondo me sei da credito un po' troppo A differenza tua che Tu sei l'acquista Sei buono Sei veramente Sei grande Sei un bel amico Comunque, Andre Ultimamente Tati Proprio mi è caduto in basso Ok Spero che mi chiede i favori Sempre, sempre Sai cosa? L'altro giorno Mi ha detto proprio di te Che te la ti Ti senti grande Cioè Secondo me non è così Tu sei Cioè Se veramente Tu pensi il bene delle altre persone Vuoi il bene delle altre persone Lui no Secondo me Ma Cos'è sto discorso Che va a dire in giro Che io me la tiro Faccio il fenomeno Semmai è il contrario Sei te che vai a dire cose in giro su di me Che dici che sono un approfittatore Io mi ha mai detto Uno scosso Raga Non le dicate Ma che le dicate a fare? Tati Non ne vale la pena poco con Henry Capito Tati Henry Potremmi discutere con noi così Ma con un po' Non sta Andre mi sa che stavolta è finita proprio Perché Anto? Le cose non andavano bene Già Ma lasciate No Anto non è vero Se n'è andata proprio Ma quando mai Anto Ma pure sei fulso Anto ma che fa? Eh Andre ma che fa? Cioè per la tua bellezza Andre ne potrà avere altre mille Anto te lo assicuro Ma poi ci sono io vicino a te Ti ringrazio Ho capito Non stare male Ma mi dispiace Capito? Il sapientone Mi scusi da prof Già sono una capra in matematica Mi ha chiesto il valore di pi greco E tu cosa hai risposto? 3,14 Ma come Henry dai Lo sanno tutti Che il valore di pi greco È 3,14159265358 Oh Ami lo sai Ieri ho corso 100 metri In 10 secondi Mi sento proprio Usa in Bolto Sono proprio forte Mi sento veloce Velocissimo Guarda Anto Che nel 2009 Bolto ha fatto il record mondiale Con 9,58 Non sei minimamente vicino Al record mondiale Vabbè Come Bolto magari no Ma almeno come secondo Dai Anto manco il secondo Il secondo l'ha fatto Tyson Gay Col tempo di 9,71 Stai lontano Mi dispiace Comunque Mirko Se io mangiavo quella torta Mamma mia Se avessi mangiato Se avessi mangiato Mamma mia Mamma mia Vabbè comunque non mangiare Il fissato Oh Henry Mi sta ascoltando? Eh New Chop La canzone di Playboy Carty Asaparocchi del 2017 L'album di Playboy Carty Bomba Minchia sì Che stai facendo? Sto mangiando i miei outfit Oh amiciando i tuoi outfit Una fetta Un pantalone Dai Ma ti pare che io Quando riesco da quella porta di casa Vado visto fuori come un clown Essere tutto amiciando Tutto i colori perfetti Anto O meno Abonda Harry 100 grammi Dati Ma come? 102 Forse No Un altro 99 100 Perfetto Proprio preciso Preciso Cioè Vabbè Il testardo Quanto mai Di rovesciata Di sto weekend Ma come? Ma non ha segnato Ha segnato Le più giornali Ha segnato Le più subentrate Entrate Scusami Guarda Ma non è lui Come è lui? Ma no Non vedi Non ho nel suo capello Oh raga 7 verticale Capitale dell'Austria 6 lettere Vienna Lugano Ma come Lugano Lugano Ma ci viene mio fratello È svizzero Lugano 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 Aspetta Ti faccio vedere Capitale Austria Guarda un po' Con capitale La città di Vienna Visto guarda Vienna Ma è sbagliato Che pedia Ma è sbagliato C'è chi l'ha modificato È Lugano Ma si sa da sempre È Lugano Ok Eccolo 6 Piss Vabbè Ma io vi ricordate a Madrid Quanto abbiamo mangiato Quanto Noi siamo sfondati Così tornerei proprio Quagino in quel periodo Ma perché Dovevo mettere La mangiata che abbiamo fatto A Madrid Con le 100 mila Lugano a New York La settimana dopo Dai La settimana dopo Che dici Scusa La settimana dopo Ma siamo andati a New York Siamo andati Ma che dici Ma ce la fai New York Settembre siamo andati a New York E all'inizio Lugano a New York Ma state fuori dal te Dovevo mettete C'è New York Ma c'è New York Ma sono andati a Londra C'è New York C'è la SISC 100% Sono andati a Londra È così No Il clown Ma dai È proprio È un periodo particolare È proprio brutto Sto periodo Non so come fare Su determinate cose È pazzesco Non ce la faccio Non ce la faccio Mi cerca di Tirarti su qualche Lugano Che cazzo fai Dai Mi sta parlando di cose in serio Che fai stai cazzare Stai ammalizzare No? Ma com'è che è andata la buona Stasettimana? Non l'ho giocata Non l'ha giocata Mirko L'ha giocata Mirko Che cosa fanno? Aiù aiù Cosa fanno otto cani in mare? Vabbè Il canotto Cani Otto cani E la bella Mi dispiace Quindi l'ha giocata Mirko Quanto ma Eh no niente Ti volevo dire che stasera Siccome sono i miei amici a casa Passala Ho ordinato Salve signora Prendiamo la pizza Passala Ma mamma Ordinavo la pizza So che hai preso da mangiare Mega festone No no Che festone Come non si sente niente Portai le ragazze che hai portato ieri a casa No no Ma che ragazze Nel letto dei tuoi Sissitati Mangiamo solo la pizza Salve signora A dopo Eh Ma quale pizza signora Altro che pizza A dieta A dieta Ma quale dieta Quale dieta Vabbè Ciao Ciao Sì Torniamo alle otto Ti saluto Torniamo domani mattina L'ho svogliato Allora Come ascoltare un po' di musica Per ora le Airpods Ah sono là Oh mi le passi per sfruttare le Airpods È assoluta Mi la credi Dai devi solo allungare la mano Eh ma che tu devi allungare la mano Dai non c'è Mamma mia Forza Mamma mia Pronto Omar Vabbè non tu Senti sono con due ragazze Vieni con me Ah fammi compagnia No Anto Stasera non riesco a provare C'è la Champions Dai Ma come Omar Ti ho detto che sono con due ragazze Vieni dai Allora Anto Poi O diciamo Dolore allo stomaco No non mi va proprio Davvero Ok Ciao Ciao Ah Oh ma io ne ho fame Stasera che mi cucino Sono ospite Stasera mi può Fondignone Ma come Fondignone Fondignone Facciamo prima Dai Piatto di pasta veloce Non lo puoi fare Piatto di pasta Mi ha fatto una torta Che era spaziale Te la giuro Era troppo buona Puoi dire portare un pezzo Ciao ragazzi Oh eccolo Ma Marta a posto Ma si dai Ma si Che fate i capelli Oh Certo Beh Te li sei lavate Tu puzza di bruciato Certo Ma se i miei capelli E voi Hai telefonati troppo Sobriciato Eh si Hai telefonati troppo Sentito Vabbè Effettivamente C'era lì Ciao mi Ma per te lo giuro Sono proprio distrutto Mamma mia Hai lavato la scena Come non certo Come sempre Mamma mia Mi sono davanti Se non vedevo Vabbè che giorno Sono proprio cotto Te lo giuro Mamma mia Che c'è da qui Hai preso freddo Mamma No no I tuoi piedi Rimetti le scarpe Io le daremo a prescindere Ma tu Per precauzione Rimetti delle Mamma Ma che stai dicendo Oh Eh Hai sudato anche oggi Un altro che stanco Il bugiardo Henry Che fai Esci oggi No dati Guarda sto un po' Un po' male Sono in camera Sto a casa Eh vabbè Ci vediamo Ciao 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 Oh ciao Henry Ciao amici Dimmi Posso venire a casa tua Dai giochiamo un po' No Mirko Meglio di no È un problema di famiglia Ah Mi dispiace Eh vabbè dai Ci vediamo alla prossima Bella Ok dai dai Ci sentiamo Ciao 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 Andrò l'altro giro Stavo camminando in centro Ho trovato Ronaldo Con suo figlio Eh sì Ma dono la foto Te lo giuro E fai di la foto? Ma quando? No l'ho eliminata Ma che dicevi Te lo giuro Te lo giuro C'era anche una maglietta dietro Mela data Ma perché l'avresti eliminata Non ho capito Mi ha dato anche la maglietta Te lo giuro Ma dove sta la maglietta? Eh vabbè non ce l'ho qua Sì dai che dicevi Ve lo giuro ragazzi Ve lo giuro Ma che dici Ma sapete che ho racconto cavolate Eh sì Ho proprio il tuo Il tifoso Oh Denis Buona partita Che vinca il migliore Sì sì Ovviamente noi Fermalo Vai 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 Capallo pazzo Vai 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 Dai Romagnoli Fermalo Tirolo tu Tirolo tu Sììììììììììì� Capallo pazzo Godo Andiamo Dunque Sìììììììììì Divo finirli qua Sì sììììììììììììììììè Sì Rebic Sì 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 Fulcisi E vai Rebic E andiamo Grandi ragazzi Sì 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 Uccisi Quattro E a casa Sì dai sono fortuna Sì quattro gol fortuna Dai dai Piamo Piaggi piaggi Sì dai Ragazzi lasciate 50.000 mi piace Per un prossimo video E consigliateci qua sotto Un altro tipi da Quindi lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al Eats E noi ci vediamo Ad un prossimo video Ciao